Shaggy, send it out in S.O.S., send it out in S.O.S. Con la sua chitarra e la sua voce inconfondibile, Sting, in duetto con Shaggy, ha aperto con Messaging a Battle la settimana di anteprime di Toscana alla fortezza da basso di Firenze. L'evento della regione toscana è dedicato alla presentazione delle nuove annate di 16 consorsi di tutela del vino, vino che per la Toscana è un'eccellenza e che Trudy Styler, moglie di Sting e con lui da anni produttrice, ha definito poesia ed estasi. Ma anche una vera forza, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, per la capacità di innovazione delle 22.000 aziende toscane che esportano il 60% del DOP all'estero, non solo nei paesi storici compratori come Stati Uniti e Germania, ma ora anche in quelli asiatici. E la forza della Toscana sta nei consorsi, rappresentati agli stand di anteprime di Toscana. Il consorzio è molto importante perché aggrega le forze per poter poi presentarsi nel mondo sempre più in maniera compatta e con l'unione fa la forza. Anteprime di Toscana si è aperto in contemporanea con Buy Wine, la due giorni di incontri tra produttori e compratori, 215 le aziende vitivinicole presenti alla fortezza e 190 buyers da 39 paesi, per dimostrare che nonostante il calo di produzione causato dalla siccità, anche nel 2017 la Toscana del vino ha resistito, anche sul mercato nazionale. Fino a oggi ha fatto segnare qualche segno positivo solo in termini di valore, ma nel 2017 è cresciuto anche il volume dei venduti dei DOP rossi, questo è un segnale importante per una regione come la Toscana, appunto fatta di grandi rossi. Per tutelare il proprio patrimonio vitivinicolo, la regione toscana ha anche approvato da poco un provvedimento che frena il reimpianto in altre regioni dei vitigni, una ricchezza, il vino toscano, che sicuramente merita un brindisi. Grazie. 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 Grazie.